buongiorno a tutti oggi sono qui a fare un altro video inerente alla caccia al cinghiale come scegliere l'espress giusto cioè l'espress è un'arma che sempre di più negli ultimi anni ha preso campo perché magari chi ha già la carabina chi ha passato dal fucile alla carabina ora può passare all'espress diciamo chi spara pochi colpi quindi magari vuol provare un'arma un po più particolare o chi semplicemente come me li preferisce per un discorso estetico e etico diciamo che l'espress sta prendendo sempre più campo in Italia il problema è la fornitura di questi armi cioè la disponibilità di questi armi da parte della ditta purtroppo è molto molto scarsa a causa dei tempi di lavorazione che richiedono appunto queste armi che sono le armi per far sparare a palla più complicate da costruire diciamo che l'espress come classico il più venduto è ovviamente un sovrapposto il sovrapposto anche per un discorso di piegatura perché l'espress molti sparano senza ottiche senza niente quindi deve essere un fucile che deve tornare alla perfezione visto che si spara a palla questo è il nuovo sabatti ex 190 in calibro 8x57 questo sovrapposto è come vedete ha dei fori sulla bindella questi fori sono solo sedi per poterci montare attacchi per punti rossi ottica sgancio d'apido quello che volete fare ha delle mire in fibra ottica come vedete regolabili quindi volendo si può sparare semplicemente anche con le mire regolandole e ecco praticamente fatto come un sovrapposto classico quindi voglio fare la piega agisco sull'incasso voglio accorciarlo l'accorcio e ha un peso molto molto leggero quindi ottima arma per fare e per iniziare la prova dell'espress fucile che ovviamente anche porta cinghia un fucile che è prettamente da chi caccia alla posta ma viene usato anche da chi va con i cani per un discorso di sicurezza molto maneggevole e si può trovare in svariati calibri i calibri da espress diciamo che partono dal più piccolo come questo 8x57 rimmed io preferisco calibri rimmed cioè quelli che hanno il fondello come la cartuccia classica non tipo 30.06 cioè il fondello del bossolo è fatto come un calibro 12 o 20 invece di avere lo scalino che serve a lunghe estrattice delle carabine semautomatiche come 30.06 o 30.08 si può trovare anche espress in 30.08 30.06 però il gusto classico secondo me è dall'8x57 4x44 4x50 45x70 9x3 per 74 poi si va al 30 blazer al 4x70 al 500 tutti i calibri però diciamo per la caccia al cinghiale in Italia a mio avviso i calibri sono 3 8x57 4x44 e 9x3 per 74 sono quelli più usati e più richiesti ovviamente l'8x57 è pari quasi a un 308 4x44 ha un ogiva molto più grande ovviamente 9x3 per 74 ha la palla del 9x3 per 62 però il bossolo è molto più lungo e carica un po' meno pressato diciamo questo è il classico fucile che parto voglio provare un espress 8x57 sabatti o altre marche cifra abbastanza giusta e mi levo diciamo lo sfizio di provare un espress poi si può trovare anche modelli come questa e iberetta silversable un modello un po' più passato però lo tengo per diciamo prova questo è un fucile che ha come vedete le canne staccate queste canne staccate perché? perché è molto difficile far sparare dritto un espress non pensate sia scontato come può essere una carabina sematomatica questo ha anche un nasello come vedete appoggia guancia per appunto stare più più stabili sul calcio però vi ripeto le canne fare un fucile express ha un costo elevato perché appunto è molto difficile far accoppiare convergere le canne a quelle a determinate distanze quindi un modello come questo che ha una specie molti espress vedrete hanno delle specie di regolazioni quindi ti possono dare la possibilità di modificare un po' il tiro quando si fa la taratura dell'espress ricordatevi non è una sematomatica e anche con quelle espress vedete la dimensione delle canne è molto fine quindi un colpo un colpo solo si tarra sempre tutti gli espress su una canna voi fate la taratura sparando esempio con la prima canna perché devo essere sicuro che almeno il primo colpo sarà in centro il secondo lo provo dopo quindi sparo metto in centro la prima canna raffreddo sparo anche la seconda canna stesse cartucce per vedere dove andiamo a finire ovviamente un espress non è un'arma nata per sparare a 100 200 metri è un'arma fatta per sparare a distanza classica 30 40 50 metri poi ovviamente se hai la fortuna di avere un espress che riesce a convergere le canne dritte fino a 200 metri sei molto molto fortunato però è una cosa che è così purtroppo è difficilissimo fare tarare infatti anche chi caccia con gli espress con ottiche da battuto punti rossi tara sempre l'ottica o il punto rosso sulla prima canna la seconda canna va visto a che distanza piazza al secondo colpo e si può agire sulle regolazioni o se no fatevi aiutare da armerie o ditte esperte non date queste armi al primo che passa per farvele sistemare perché si rischia di sciupare armi molto molto costose dopo l'espress sovrapposto passo secondo me a quello che è veramente l'espress perché io quando sento parlare di express a me mi viene in mente solo una cosa cioè la doppietta questa è una rizzini come vedete è un modello br 550 questo calibro 444 fibre ottiche mirino rosso e qua si va sul ancora più compriato cioè qui ho tanta bellezza come regolazione delle canne è molto più difficile infatti le doppiette espressa hanno dei prezzi molto più elevati dei sovrapposti perché hanno un lavorazione ancora più accurata come vedete hanno una vite di regolazione che ha le tra le due canne quindi si può fare qualcosa ma è molto un piatto e non fatelo fare a chi non è capace però a qualche quanto riguarda bellezza guardate queste sono armi calciolo rigorosamente rosso perché se vi vedo un calciolo nero la doppietta guarda guarda e ha sempre gli inserti come vedete per montare le basette ottiche punti rossi visori quello che vi pare si può trovare mono grillo b grillo e a mio avviso infatti io ho comprato una doppietta express pur avendo avuto l'occasione di molti sovrapposti però se devo prendere un'arma per la bellezza express prendo la doppietta poi si magari si può a tanti ma molti più difetti sia l'aggiustaggio della piega è un po più complicato quindi quando ordinate armi del genere a questi prezzi controllate prima che la piega sia giusta perché se la piega non vi torna avete due colpi e piccoli sono pallottole quindi vanno sparati bene soprattutto il primo ovviamente controllare dove spara la prima canna meccanicamente molto simile al al sovrapposto e cambia solo il discorso della bellezza tutto lì finiamo con una chicca purtroppo express economici come ho fatto in tutti i video c'è che alla fine esco con un'arma usata presso giusto per iniziare si è spesso economici si trovano molto molto male anche perché va garantito un'alta qualità facevano il baikal che però non so se più prodotto però diciamo che non ha con tutto rispetto nulla a che vedere con i fucili italiani quindi partendo da sabatti fire o altre ditte un express italiano ha un'altra qualità ovviamente poi si va sul complicato ti per finire vi lascio questa chicca questo come vedete questo è un'arma una siace in calibro 470 nitro express cioè come vedete le canne queste sono canne che hanno poca regolazione questo è un express vero express cioè il vero express era quello usato in africa per sparare a elefanti leoni e animali pericolosi rinuceronti popotami cioè cosa vuol dire perché un express primo perché ai tempi era una delle armi in cui potevi caricare grossi calibri senza aver problemi di otturatori canne e quant'altro anche perché caricare grossi calibri in carabina otturatore come il 500 e 470 non era proprio così consigliabile come chiusure queste avevano chiusure molto più robuste e perché un express ha due grilletti vedete questo ha due grilletti soprattutto nei calibri grossi perché quando ti trovi a che fare con animali pericolosi almeno uno deve partire quindi se non parte il primo parte il secondo questa una cosa mi ha detto alessandro giangio e lui mi sa molto molto più di me abbiamo una foglietta come molti gli express si trova vedete una che si abbatte e una fissa quindi questa è per tiri a poca distanza l'altra è per tiri a lunga distanza di norma è 100 scusate di norma è 50 e 100 metri cioè con la prima tira 50 e la seconda 100 oppure 100 e 200 lì va in base anche a come si fa a cosa come è stato costruito l'express mirini in acciaio perché si può capitare di battere e picchiare si può trovare anche mirini ribaltabili con il mirino fine che serve per tiri a lunghe distanze e ribaltabile più grosso che serve per i tiri a breve anche perché molte volte molti professional hunters come si vede nei video usano proprio un express perché hai più sicurezza hai comunque sia la possibilità di poter doppiare colpe può contare su due ora se si sciupa al primo a nel secondo lì dio ci aiuti però diciamo che calibro grosso arma robusta doppia possibilità di sparo e tacche di mira più rapide per sparare a breve distanza e in più che altro ti dà la possibilità di comunque a breve breve distanza di aver di sparare due colpi rapida successione senza fare il classico otturatore che si apre si richiude quindi ti fa perdere poco tempo in certe situazioni in certi posti questi attimi sono vitali quindi il classico express vero e proprio parte dall'africa con questi calibri 454 400 poi molti calibri sono spariti e chi più ne ha chi ne metta 375 hollande hollande che è stato fatto insomma diciamo che si possano trovare tutt'oggi ancora in commercio e queste sono veramente armi di un certo livello quindi a tutti gli amanti dell'espresso come me vi consiglio di prendere quando capita l'occasione ma ricordatevi di controllare sempre express usati dove sparano come sparano e se si può aggiustare la piega o meno chi usa punti rossi ottiche ovviamente non non merita non importa che la piega torni perfettamente però secondo me se devo acquistare un express e montarci un punto rosso vado un po a diciamo snaturalizzare la bellezza di questi anni quindi vi saluto e spero di avervi dato qualche piccolo consiglio utile l'express ripeto è un'arma che è una diciamo più di bellezza anche se abbatte come gli altri non c'è problema però se uno magari parte e vuole avere un po più di sicurezza può andare tranquillamente su un'assieme automatica quando ha più pratica può andare su un express anche perché purtroppo gli animali stanno un po diminuendo e due colpi bisogna essere molto molto bravi a spararli però hai una soddisfazione nettamente superiore a tutte le altre armi alla prossima grazie a tutti